La spiccavano sotto i giacchi, ovviamente si è scongelata, possiamo rivedere la città e vi è arrivato anche un nuovo luogo Oltre anche ai nuovi mostri che però magari in questo video non so se ce la farò Guardate quanta c'è pinnacoli, beh, è pinnacoli Questo è lo scheletro del mostro dell'evento di Season 9 Che venne ucciso, che venne ucciso, era la spada Vediamo se è indistruttibile, è indistruttibile, ed è anche piuttosto realistico C'è una cassa, non è che qui ci mettono una spada, sarebbe epico Qui c'è un cinghialone E chissà chi è che lo sta disatterrando questo scheletro, mi riapparirà? No, no, salami, salami, tu, lurido Perfetto che c'è un cinghiale Cinghialone, cinghialone, pasticciane Resta di latarmi Ah, mi serve anche la tua Cinghialone, pasticciane Qualcuno mi sta scavando? Ci sarà un bordello di gente Allora, come vi stavo dicendo Ci sono venuti anche i nostri Purtroppo sono difficilissimi da trovare E non sono per niente cinghiali Pinnacoli non c'è nessuno Eccoli Eccolo Eccolo, oddio, gigante E lì c'è un player Ammi da sola No, mi dispiace, non venite da voi Andiamo subito Oddio, è incavolato nero Qualcuno l'ha coltura Facciamo l'antano Allora, togliamoci questo Prendilo, prendilo L'aspirato, guarda L'aspirato dentro E' finita No Oh, che bello Oh, e sta proprio vicino a Pinnacoli Questo ovviamente non spawna solo qui Abbiamo avuto una fortuna incredibile Ve lo posso assicurare Guarda, io sto provando questa cosa da un porto Allora, queste sono le sue bacche Lui le mangia E' tecnica mangia ci dovrebbe dare buone armi Ehi Ehi Siamone Prendi, prendi, prendi Mangiala Mangiala Sì Oh, mangiala E' felice E' anche psichopatica Rigorgita un'arma Rigorgita un'arma Perchè cambia i calor Perchè cambia i calor ah ok 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 grazie ok prendiamo le pericolazioni da qui su non dovrebbe farci male venga dietro ok 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 Manta! Manta, pizzerò! Manta, lo fai! Manta, lo fai! Non fare il passivo che viene! Ok, basta! 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 Oh, ora non è più arrabbiato! Brava, bambino! Eh... se ci vado non ci vado! Oh! Mi sta... Che mi vengono? Ah! Dov'è? Eh... ti puoi spostare? Ma se mi metto qui... tu non puoi... tu non... Tu non puoi spostare! E via! Mi tenete mai un'efficienza? No! Che so che spostare con il tuo cartellino! No, che so che spostare! Oh! No! 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 Mi fa fuori! Ho chi invece di vita! Ho chi invece di vita! Mi fa fuori questo! Mi sono un'efficienza per un po' di tempo! Mi fa fuori! No! 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 Dove ad andare in sardo! Che air ca.? No! Perché l'accia! No! Dove andare in sì! Nespa fato da quando... Ma devo andarmene! Questa mata... Viene ancora la spesa tutti noi! c'è una tempesta finisce qui comunque è bella bello il nuovo mostro bella pinnacoli 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 mi sono stati piuttosto fortunati poi qui c'è lo scheletro del mostro di season 9 chissà se riapparirà c'è un bug non mi fa consumare eccolo qui poi qui abbiamo trovato il mostro ovviamente chissà dove risponderà la prossima volta ciao